Eccomi, eccomi, eccomi! Buonasera amici e amiche rossoneri! E vai ragazzuoli e ragazzuole belle! Buona serata a tutti voi di questo giovedì 5 aprile 2023 ore 19 e 13 presto che tardi! Allora ragazzuoli e ragazzuole belle, amici e amiche rossoneri e anche non rossoneri, quindi io ve lo dico sinceramente, questo video e non solo questo video, quello di domani, quello di settimana prossima piuttosto che, io adesso farò una pausa per Pasqua e Pasquetta e anche per il sabato per cui per tre giorni non ci vedremo, forse molto probabilmente a Pasquetta, adesso vedremo la sera di Pasquetta, ci sono delle news importanti, però ragazzi questi video, questi prossimi video saranno tutti dedicati al nostro ex presidente cavaliere Silvio Berlusconi. Perché faccio questa prefazione, dico queste parole? Perché tutti lo sapete, Silvio Berlusconi è ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano e le sue situazioni diciamo che ieri destavano molte, molte, molte preoccupazioni. Adesso si viene a sapere esattamente, è stato diramato il primo bollettino dal suo dottore di fiducia, dottor Zangrillo, che Silvio Berlusconi soffre di un'infezione polmonare dovuta e determinata dalla leucemia mielomonocittica cronica. Per cui insomma Silvio Berlusconi ha questa brutta malattia della leucemia e insomma il discorso è che questo video è dedicato a lui. Perché è dedicato a lui? Io lo dico semplicemente, ho messo un post nel mio Instagram privato. Allora, di che se ne dica di Silvio Berlusconi? Di come se ne dica? Silvio Berlusconi è un uomo che è un pezzo di storia del nostro paese, dell'Italia. Nel bene e nel male. Nel nostro Milan nel bene. Tralasciando il discorso debiti, lasciate tutto il resto. Ma Silvio Berlusconi è questo. Silvio Berlusconi è questo. È un uomo che ha fatto un pezzo di storia del nostro paese. E io la notizia di Silvio Berlusconi ieri non è che me ne sono completamente dimenticato. Avevo delle cose da dire e sì, in effetti, scusate, in gioco di parole, me ne sono un po' dimenticato, ma perché avevo delle cose da dire a razzo, ma in testa, devo dirvi la verità, avevo la tristezza del nostro ex presidente che non sta bene. Ed è stato qualcosa che mi ha colpito, vi dico la verità. Perché se voi ci pensate bene, i nostri ricordi sono più ricordi belli verso il presidente Berlusconi collegato al nostro Milan che ad altro. E a tante altre cose che ha fatto nella sua vita, ragazzi. Cioè, ha creato la TV privata, la TV privata ce l'ha già, ma lui l'ha potenziato in una maniera incredibile. Ha dato migliaia, ci direi migliaia di posti di lavoro. Ragazzi, famiglie che hanno mangiato grazie a lui, amici che hanno mangiato grazie a lui, tanta gente può solo dire che ha goduto grazie a lui. L'ho detto, di che se ne dica, come se ne dica, Silvio Berlusconi è un pezzo di storia della nostra Italia. E in questo momento siamo tutti vicini a lui. Noi milanisti siamo tutti vicini a lui. Tutti. Ragazzi, partiamo a razzo. Fatta questa dovuta prefazione su Silvio Berlusconi, lo sapete tutti, ieri sera Guardia Finanza ha bussato le porte di Lazio-Roma e altre squadre. Praticamente il caspolus valense più evidente è quello di Lazio-Roma, con 172 milioni di euro di operazioni sospette. Ma di che cosa stiamo parlando, ragazzi? E ovviamente se saranno dimostrate le colpevolezze, ci saranno le sanzioni, un po' come è successo la Juventus e tutto il resto. Vedremo come andrà a finire, perché per il momento non si può dire nulla, però questo è un caso eclatante, pazzesco. È un fulmine a cessereno ieri sera a Guardia di Finanza, a quanto pare. Agiscono. Ragazzi, però veniamo a succo di questo video, il protagonista di questo video lo sapete, è questo post messo su Instagram dal consigliere comunale, capo dell'area verde del comune di Milano, il dottor Monguzzi, Carlo Monguzzi. Allora ragazzi, lui ha scritto semplicemente questo post, adesso vi vado a leggere, che potete leggere anche voi, nella copertina di questo video e anche, ve lo metterò anche, no, non lo voglio mettere dopo il post di rispetto nei confronti e di saluto e di preoccupazione nei confronti di Silvio Berlusconi. No, perché non se lo merita. In community non metterà nulla, andatevelo a leggere voi, in giro nel web e su Instagram, ma io adesso ve lo leggo, faccio una breve considerazione educata come mi compete. Ma io trovo vergognoso che oggi venga fatto un post del genere. Sicuramente la nostra proprietà non risponderà a questo post, però voglio vedere e attendo al Varco il sindaco Beppe Sala, perché il sindaco dovrà per forza rispondere a questo post, per forza, del suo consigliere comunale. Visto per come ci ha trattati a noi del Mila, che coinvolge indirettamente anche noi tifosi del Mila, e lui non si dovrebbe permettere, questo consigliere, di scrivere un post del genere, in questo tono, in questo tono, come lui ha usato. Doveva scriverlo sì, ognuno è libero di dire il proprio pensiero, ma con un altro tono. Ha scaricato la foto da Google Earth della zona di San Donato, San Francesco, lì come cavolo si chiama, dove ci sono tutti i tralicci di elettricità dove il Mila vuole costruire lo stadio, quasi obbligando, anzi quasi dando ad intendere il sindaco di San Donato, mi raccomando, fai anche tu come noi del Comune di Milano, è che andiamo contro il Mila nella sua proprietà di fondisti, di fondi di investimento che cementificano e basta. Lui ha scritto esattamente questo nel suo post su Instagram, il consigliere comunale Carlo Monguzzi. Questa è la nuova idea del Mila, perché lui ha postato la foto scaricata da Google Earth, nell'area dove noi vogliamo. Ci sono solo degli alberi, dei prati e i tralicci di elettricità. Tralicci di elettricità da tutte le parti, per cui lui dice c'è prato e basta. No, ci sono i tralicci di elettricità e tutto il resto, se mi permetti. Questa è la nuova idea del Mila, costruire lo stadio nell'area, sì, San Francesco si chiama, di San Donato. Sempre aree coperte di verdi, dei prati, ci sono i tralicci di elettricità e tutto il resto. Sempre consumo di suolo, tanto il fondo finanziario vuol solo speculare. Beppe, mandali a quel paese e speriamo che il sindaco di San Donato faccia altrettanto. Beppe, mandali a quel paese. Questi del Milano, mandali a quel paese. E speriamo che il sindaco di San Donato faccia altrettanto. Come se la sarà risa questo qua. Allora, sotto questo video fate voi i vostri commenti. Siete liberi di fare i commenti che volete? Io non vi dico di fare altri tipi di commenti, vi prendete la vostra responsabilità, ma siete liberi di scrivere sotto il video quello che volete. Il vostro pensiero sul consigliere comunale di Milano, Carlo Munguzzi dell'area Verdi, uno che praticamente si scopre oggi, a quanto pare, è contro di noi, al nostro progetto di, come dice lui cementificazione, consumo di suolo. Tanto il fondo finanziario vuole solo speculare. Beppe, mandali a quel paese. E speriamo che il sindaco di San Donato faccia altrettanto. Per cui lui adesso lo dice indirettamente, il sindaco di San Donato mi raccomando, perché se no non fai una bella figura. Ai nostri occhi dei Verdi. Costruire lo stadio a recoperti di Verdi e Prati, ci sono i tradici. Allora ragazzi, io sinceramente quello che vi dicevo sia nel video di ieri che nel video che faccio ultimamente nei confronti come buttade, come battute nella politica, è questo. Adesso io non mi riferisco esclusivamente al signor Munguzzi, qui Carlo Munguzzi, ma mi riferisco alla politica in generale. Questa è la nostra politica, la politica che governa il nostro paese. Non c'è differenza né da Meloni, né da Schlein, né da Cinque Stelle, niente. Sono tutti appaiati a un comune denominatore. Parlare, 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 parlare. Di fare qualcosa per il paese, il minimo necessario. Di tenere rallentato il paese sempre. Non si sa come mai. Questo non si capisce. A quanto pare, se tu vai anche in un'area che praticamente c'è un pezzo di prato, ma un casino di tradici dell'elettricità, piuttosto che, non so, antenne per la telefonia con un po' di alberi, tu praticamente stai già facendo un delitto. Siamo arrivati a questa considerazione. Ragazzi, io vi dico la verità, io non so voi, ma il dottor Munguzzi, qui il capo dei Verdi, fa solo una cosa con questa operazione. Ci fa capire quello che io ho detto adesso, cos'è la politica oggi in questo paese. Lui, adesso mi riferisco a lui, la sua area del Comune di Milano. Come a tutti i politici, quasi tutti i politici, perché poi qualcuno che si salva c'è sicuramente. Dopo considerazioni del genere, senza un senso, compiuto nel senso, senza prendere in considerazione quale sarà il progetto, come migliorerà quell'area, quanti posti di lavoro potrà portare, come verrà veramente fatto quel progetto, ma a priori, come disse già il sindaco Sala pochi giorni fa. Questi signori non meriterebbero più di prendere neanche un voto, neanche un voto, neanche un voto. Andare a votare serve a questo. Andare a votare serve a questo. Avere le considerazioni di un politico che scrive queste cose, denigrando anche noi tifosi che amiamo e tifiamo e spendiamo soldi per il nostro Milan, di mandarci a quel paese, perché lui si riferisce al Milan. Poi lui dirà, no, io mi riferivo alla proprietà. Indirettamente offende anche noi, offende la nostra squadra, offende la nostra proprietà. Tanto il fondo finanziario vuole solo speculare, ma va. Questi qui sono venuti a gratis per fare un'opera di beneficenza. Quando poi la UEFA e la FIFA ci chiedono stadi nuovi, il neoeletto vicepresidente della UEFA, presidente della FIGC, Gravina, che è stato letto ieri vicepresidente della UEFA, dice abbiamo bisogno di stadi nuovi. Per cui, riepilogando, caro Carlo Monguzzi, Gravina dice, vicepresidente della UEFA appena eletto, presidente della FIGC, dice dobbiamo fare gli stadi nuovi. Beppe Sala dice non posso giudicare a priori. La FIFA dice dovete muovervi a fare gli stadi nuovi, strutture nuove e interessanti. Allora com'è la storia qua? Beppe mandali a quel paese dice Monguzzi e speriamo che il sindaco di San Donato faccia altrettanto. Allora amici noi ci vediamo domani sera dopo la partita. Milan-Empoli non sottovalutiamo le notizie dell'ultima ora che Pioli farà un turnover, molto probabilmente Brandiaz non gioca subito, come era prevedibile. Vedremo come andrà a finire, perché comunque l'Empoli non va sottovalutato, questo va detto, lo sapete già, c'è uno storico già positivo fuori dell'Empoli in confronti dell'Inter. Noi ci vediamo domani entro le 23.30, entro mezzanotte. Io non voglio obbligarvi a fare in futuro scelte che non volete fare, ognuno di voi è libero di fare quello che volete, ma questa è la politica che ci comanda oggi, che prende i nostri voti e fa affermazioni di questo tipo, affermazioni di questo tipo che non capisco che senso abbiano, ve lo dico sinceramente, non capisco che senso abbiano. E' sconfortante, vi dico la verità, è letteralmente sconfortante. Vi mando un abbraccio, ciao.